Dopo aver riattivato il reattore, nella camera di raffreddamento è partito l'allarme gas. Le turbine sono raffreddate a idrogeno e ora perdono. Se apri il fuoco morirai. Sarà com... Te li hai presi, vero? A volte mi fai diventare pazza. Non mi hai mai dato retta. Salve, piacere di vederla. Oddio, Morgan, io... A volte sai davvero come sorprendermi. Per favore, dritto nel collo. Cerca i segni... È molto più difficile farlo da sola. Oddio! Respiro di nuovo! Mi sento le gambe! Vedo ancora qualche puntino, ma... dovrebbe passare. Grazie, Morgan. Bel lavoro, Morgan. Saresti un ottimo ingegnere junior. Ora, va all'ascensore. Ma fa attenzione. Chi può dire cosa abbia smosso il tuo intervento? Ti raggiungerò appena posso. Vediamoci nel tuo ufficio. Chiedevo come avresti reagito trovando Michaela. Hai rischiato la vita per aiutarla. Mi fa pensare che l'estrazione del Neuromod non cancelli tutto. Non completamente. Forse i ricordi particolarmente intensi lasciano deboli tracce. Emozioni istintive. Oppure sei solo più compassionevole di quanto credessi. Sicuro che non sarebbe stato meglio. Non voglio sembrarti insensibile, ma quando scoprirà che intenti distruggere Talos One, potrebbe reagire violentemente, dato che non c'è modo di lasciare la stazione. È insensibile, ma quando scoprirà che intendi distruggere Talos One, potrebbe reagire violentemente, dato che non c'è modo di lasciare la stazione. Minoccia di esclusione minima. L'operatività sarà ripristinata su approvazione del supervisore. L'operatività sarà ripristinata su approvazione del supervisore. Morgan, sono il dottor Igwe. Ho raggiunto il suo ufficio. Restano qui finché... Dottor Igwe? Santo cielo, che cosa sei? Perché parli con la voce di Morgan? Sono January, l'operatore personale di Morgan Yu. Beh, January... Non mi aspettavo il tuo arrivo. È stata una giornata intensa. Se si riferisce all'infestazione Typhoon di Talos One, dottor Igwe, ha ragione. Lei è uno dei pochi superstiti. Io... Sì, ma... Aspetti, quell'assemblatore funziona. Potrebbe tornarmi utile. Con il suo permesso, Morgan... A... Genuari. È autorizzato a utilizzare il macchinario, dottor Igwe, e a produrre qualsiasi cosa possa aiutare Morgan a contenere i Typhoon. Attenderò qui nel suo ufficio il suo ritorno. Morgan, potrei tornarli utile. Non mi piace. Sì, 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 sì. Grazie a tutti. Per favore, faccia attenzione.